Isola dei famosi, due ex del GF come opinionista e inviata? L'indiscrezione bomba. Dopo l'addio di Hilary Blossy alla conduzione, tutto cambia? Pare di sì? I dettagli. Canale 5 continua a intrattenere il pubblico con il grande fratello. Ieri 14 febbraio la puntata ha registrato 2.147.000 spettatori pari al 17.3% di Shell. Ma presto tornerà anche l'Isola dei famosi. Non è ancora nota la data ufficiale, ma dovrebbe essere l'8 aprile prossimo, né tutti i concorrenti. Ma una cosa è certa. A condurla ci sarà Vladimir Luxuria, ex opinionista del programma, lo scorso anno insieme a Enrico Papi mentre a presentare c'era Hilary Blasi. Se da una parte è vero che non ci sono ancora notizie certe, dall'altra è allo stesso tempo vero che ci sono, invece, già delle indiscrezioni sui ruoli di Opiniosti e inviato a. Cosa sappiamo? Inviata dell'Isola dei famosi. Pare, e si sottolinea pare, che anche Alvin non ci sarà più. Al suo posto potrebbe arrivare Eleonore Casalegno. A riverlarlo è Daily Gossip School che, nella fattispecie, scrive. Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere pare che a guidare i naufraghi dall'Honduras ci possa essere Eleonore Casalegno. La bella e brava conduttrice televisiva, che abbiamo visto ultimamente spesso ospite della vita in diretta su Rai 1. È già stata impredicato di ricoprire questo ruolo all'Isola dei famosi nel 2021. Stavolta potrebbe essere la volta buona? Lo scopriremo molto presto. Gli opinionisti. Quanto agli opinionisti? Il sito di Davide Maggio indica come prima opinionista Sonia Bruganelli. L'ex moglie di Paolo Bonolis, ex opinionista del GF VIP di Alfonso Signorini, potrebbe tornare a ricoprire questo ruolo ma nell'altro reality di eccellenza di Canale 5. Non finisce qui. Sempre secondo Daily Gossip School, inoltre, Alvin non lascerà totalmente il programma. Infatti, forse, potrebbe vestire i panni di opinionista, accanto a Bruganelli. Probabilmente la scelta ricadrebbe su di lui per un motivo preciso. Luxuria è all'esordio della conduzione dell'Isola e c'è bisogno di qualcuno che conosca molto bene il programma per riuscire eventualmente a intervenire quando necessario. Ma sarà davvero così? Al momento non resta che attendere per scoprire le novità. Il tempo stringe. È facile che qualcosa di più si scoprirà già durante le prossime settimane.